buonasera a tutti gli amici di olimpo tv oleggio cade ad alba un oleggio che stava veramente andando fortissimo in vetta la classifica un finale amaro però ad alba punto a punto dopo essere stata sotto di 13 un oleggio che perde giacomelli perde pilotti perde negri arriva comunque nonostante tutto giocarsi questa parità io credo che coach pastorelli vero deluso per la sconfitta ma può uscire soddisfatto da questa sfida allora se posso permettimi voglio dire come abbiamo perso giacomelli negri filotti perché sennò apriamo ufficio inchieste sono d'accordo con te esatto allora no molto sinceramente a parte questo questa battuta ovviamente se alba fa 86 punti e noi gli concediamo ma non è probabilmente non vinciamo contro nessuno perché noi non siamo una squadra fenomenale siamo una squadra di tanti ragazzi che si fanno il mazzo in allenamento e difendono forte se noi permettiamo a una squadra ma qualsiasi non per forza alba che ha fatto una grandissima partita perché per loro era fondamentale vincerla e hanno fatto una grandissima prestazione bisogna riconoscerlo noi obiettivamente l'ho difeso veramente veramente male anche perché alba ha tirato da tre punti 3 su 12 quindi tutti i canestre che hanno fatto sono derivati da tiri liberi e da tiri dentro l'area che è un po il nostro mantra difendere l'area difendere l'uomo con la palla oggi siamo stati abbastanza impresentabili in difesa lo sa benissimo la squadra anche meglio di me tant'è che ci ritroveremo in palestra e ci lavoreremo sopra allora ringraziamo coach pastorello grazie mille a voi complimenti per la partita buon cammino grazie